Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. 59 morti per incidenti stradali nel 2022. Una cifra che spaventa anche se il dato in Abruzzo è in calo rispetto agli 80 decessi del 2021. Inoltre il trend è in controtendenza con la media nazionale che registra un'impennata del 9,9%. E quanto emerge dal report incidenti stradali in Italia anno 2022 curato dall'Istat. Secondo il dossier sono 2.824 per la precisione i sinistri complessivamente registrati lo scorso anno sul territorio regionale. Oltre ai 59 decessi ci sono stati 3.975 feriti. In Abruzzo la maggior parte degli incidenti ha riguardato le strade urbane. Il maggior numero di decessi, 33, è però avvenuto a seguito di incidenti su altre strade. In coda ci sono autostrade e raccordi con 178 incidenti, 4 morti e 272 feriti. Del totale degli incidenti, in 988 casi, si è trattato di scontro frontale e laterale. In 448 di tamponamento, in 272 di scontro laterale. In 164 scontro frontale, in 140 casi veicolo infermata o arresto. Gli altri 812 casi riguardano incidenti a veicoli isolati. Dei 59 morti, di cui 51 maschi e 8 femmine, 40 erano conducenti, 11 erano pedoni coinvolti nel sinistro e 8 erano persone trasportate. Dei feriti dello scorso anno, 2802 erano conducenti, 827 persone trasportate e 346 pedoni. In Abruzzo, l'anno con più incidenti mortali, 174, fu il 2000. Quello del 2022 è fatta eccezione per il 2020, in cui la mobilità è stata condizionata dalle misure restrittive per il Covid-19 e il dato più basso da oltre 30 anni.